Il video di oggi ragazzi inizierà così Voglio imparare la lingua spagnola Ricordatevi questa frase ragazzi perché questa frase qui tradotta in inglese ci farà guadagnare 50 euro per un solo click Ricordatevi questa frase qui I want to learn Spanish language E bentornati ragazzi in questo nuovissimo video Oggi nuovissima strategia per guadagnare 50 euro con un solo click Andando a copiare ed incollare questa frase qui So che siete curiosi ragazzi ma aspettate un attimo perché con questo video strategia vi voglio fare vedere come è possibile guadagnare soldi andando solamente a copiare questa frase copiare un link e andarlo ad incollare tutti insieme per guadagnare 50 euro con un solo click Mi raccomando ragazzi seguite il video alla fine se volete capire questa strategia E come sempre prima di proseguire con il video iscriviti al canale, attiva la campanellina lascia un bel like al video per sostenere il canale di Felix Oggi andiamo a vedere come guadagnare soldi in modo completamente gratuito Andando ad utilizzare Google Traduttore e andando ad utilizzare o Clickbank o Digistore24 Che cosa sono questi due siti qua? Questi due siti sono due negozi online due marketplace per l'affiliate marketing che vanno a vendere prodotti noi ovviamente siamo i venditori se riusciamo a vendere il prodotto andiamo a ricevere una commissione tutto in modo completamente gratuito la registrazione è gratuita sia da Clickbank che da Digistore24 noi dobbiamo solo andare a trovare gli acquirenti per vendere i prodotti che sono presenti all'interno di questi due marketplace ma adesso sono sicuro che tu dirai sì ma come faccio a vendere i prodotti a chi li vado a vendere questi prodotti guardate il video fino alla fine ragazzi oggi andiamo a vedere come vendere questo prodotto qui come vi ho detto sono andato su Google Traduttore a scrivere voglio imparare la lingua spagnola l'ho tradotta in inglese e oggi andiamo a vedere come vendere questa frase qui e come vendere ovviamente il prodotto quindi basterà registrarsi a Clickbank basterà registrarsi a Digistore24 Digistore24 paga anche su Paypal è per questo che ve lo consiglio andiamo a vedere subito Clickbank una volta che vi siete registrati ragazzi dovete andare nella zona del mercato qui ragazzi nella sinistra abbiamo tutte le categorie di prodotti da andare a vendere oggi voglio farvi vedere questa categoria qua andate su lingue una volta andati su lingue ragazzi qua praticamente che cosa abbiamo abbiamo tutti dei prodotti come vedete 99 dollari 97 dollari questi qua sono i soldi che andiamo a guadagnare se riusciamo a vendere il prodotto basterà premere su promuovi ci darà un link personale da andare a sponsorizzare ovunque anche sui social oggi vi faccio proprio vedere come andare a vendere il prodotto direttamente alle persone che vogliono quel prodotto lì quindi seguite il video fino alla fine io vi consiglio di andare su questo prodotto qua chiamato Synergy Panish ok? se andiamo a vendere questo prodotto andiamo a guadagnare 52 dollari 46 centesimi che sono sui 50 euro con un solo clic vi faccio vedere la pagina ci vado a premere sopra chiunque vadi a cliccare il link verrà portato in questa pagina qua adesso Chrome mi ha fatto la traduzione in italiano ok? questo qui praticamente è un corso online che ti fa imparare lo spagnolo ok? ritorniamo nella lingua originale e come vedete è di impatto questa pagina qua perché c'è una persona che sta parlando in inglese e ovviamente noi adesso andiamo a pubblicizzare questo prodotto le persone che parlano in inglese ovviamente quindi persone che vogliono imparare però lo spagnolo ripeto chiunque cliccherà sul nostro link personale lo porterà a questa pagina qua ha già un video presentazione quindi noi non dobbiamo fare poi più niente basterà sponsorizzare il link poi ci penserà tutto questa pagina perché c'è una persona reale che sta parlando parla l'inglese e qua sotto se qualcuno va a acquistare il corsi online per imparare lo spagnolo andrà a pagare ovviamente questi qui sono delle membership mensili quindi che cosa vuol dire lo vuol dire che se tu la prima volta che vai a vendere il prodotto ti becchi 50 euro ma se l'utente che ha acquistato il prodotto ogni mese va a rinnovare la membership tu ogni mese vai a guadagnare soldi in modo automatico perché sei andato a promuovere il prodotto e l'utente continua ad utilizzare questo prodotto qua ogni mese quindi va a pagare la membership ogni mese ogni mese tu avrai soldi sul tuo conto di Clickbank quindi come facciamo noi a promuovere questo prodotto e a chi dobbiamo promuovere questo prodotto seguito questo video perché questa qui è una parte importante una volta che abbiamo trovato il nostro prodotto ragazzi che cosa basterà fare andiamo a trovare le persone che vogliono questo prodotto qua persone mirate che vogliono imparare lo spagnolo quindi cosa dobbiamo fare ritorniamo nel nostro Google traduttore voglio imparare la lingua spagnola ho convertito dall'italiano all'inglese questa frase andiamo a copiare la frase ragazzi andiamo a registrarci su Twitter Twitter è uno dei social migliori per l'affiliate marketing per andare a pubblicizzare il nostro prodotto una volta che ti sei registrato a Twitter basterà andare su esplorare ok guardate come è semplice qua nel motore di ricerca andiamo ad incollare ok copia e incolla la frase che abbiamo scritto con Google traduttore quindi voglio imparare la lingua spagnola una volta che hai fatto basterà andare a cercare e guardate qua ragazzi abbiamo già trovato dei potenziali clienti da andare a vendere il nostro prodotto guardate come è semplice grazie a Twitter dove ci sono le persone che ovviamente vogliono imparare le lingue quindi basterà andare su esplorare basterà scrivere nel motore di ricerca I want to learn Spanish language e guardate qua ragazzi voglio imparare giapponese, coreano anche spagnolo e francese voglio imparare una nuova lingua amo lo spagnolo 27 marzo questo post qua ragazzi 15 ore fa questo post qui voglio imparare un'altra lingua o due nel prossimo anno c'è anche lo spagnolo voglio imparare lo spagnolo guardate qua quanti ce ne sono ragazzi ho bisogno di imparare lo spagnolo voglio imparare una terza lingua voglio imparare lo spagnolo cioè incredibile abbiamo già dei potenziali acquirenti per il nostro prodotto quindi che cosa dobbiamo fare noi ragazzi adesso la pagina si ritrodotta in inglese ok lingua originale questa qua ok quindi che cosa dobbiamo fare una volta che abbiamo trovato il nostro prodotto ok tutto in modo completamente gratuito clickbank bastere andare su promuovi andare a generare il nostro hoplinks personale ci premiamo se lo andiamo a copiare aspettate prima di incollare il vostro hoplinks all'interno dei post andate su bit.ly andate su create e andate ad accorciare il vostro link personale di clickbank e come vedete è questo qui una volta che avete fatto che cosa fa bit.ly va ad accorciare come vedete il vostro link di clickbank perché è molto lungo ok una volta che l'avete accorciato in più che cosa vi da vi da delle statistiche su quante persone hanno effettuato il click su questo link e da dove le persone hanno effettuato il click quindi basterà poi copiare ok ritorniamo su google traduttore e andiamo a scrivere una breve risposta una breve descrizione alle persone che vogliono poi imparare lo spagnolo quindi basterà ritornare su google traduttore ciao se vuoi imparare lo spagnolo questo corso online facile e veloce per imparare quindi cosa abbiamo scritto ciao se vuoi imparare lo spagnolo segui pure questo corso online facile e veloce per imparare una volta che abbiamo scritto ritorniamo in clickbank dove abbiamo il nostro prodotto ripeto se qualcuno va a cliccare sul nostro link di affiliazione promuovi generate hop links questo qua dopo lo andiamo a calciare con bit.ly se qualcuno lo va a premere e se qualcuno va a acquistare il prodotto noi andiamo a ricevere la commissione quindi lo copiamo ritorniamo su google traduttore andiamo ad incollare una volta che è stato fatto il nostro testo da italiano a inglese lo andiamo a copiare ritorniamo su twitter e andiamo direttamente dalle persone a commentare quelle persone che vogliono imparare lo spagnolo quindi basterà scrivere un commento e basterà poi incollare qua il testo che abbiamo tradotto con google traduttore dall'italiano all'inglese e basterà andare a rispondere come vedete il tuo tweet è stato inviato visualizza e come vedete ragazzi visto che ho messo anche il link la persona che è interessata ad imparare lo spagnolo andrà a premere ovviamente il nostro link di affiliazione di clickbank lo porterà alla pagina ok tutto già in inglese c'è già una persona reale che sta parlando ci penserà poi questa persona a spiegare i suoi corsi online visto che il sito è suo e visto che è lui che sta pubblicizzando a noi il prodotto da andare a vendere quindi ci penserà tutta questa persona qua grazie al suo video se l'acquirente è interessato andrà qui sotto e andrà a pagare una membership mensile di corsi online per andare ad imparare lo spagnolo invece ragazzi se volete utilizzare Digistore24 basterà solamente scrivere nel motore di ricerca learn ok andiamo a cercare Digistore24 è sempre un marketplace che paga anche su Paypal però come vedete una volta che è scritto nel motore di ricerca learn si compariranno proprio ok già in primo piano come imparare la lingua spagnola ragazzi questo prodotto qua ci farà guadagnare 13 euro e 76 centesimi è un po' più abbordabile per le persone che vogliono imparare l'inglese lo spagnolo costa un po' meno questo corso qua costerà solamente 21 euro ok quindi abbiamo più possibilità anche di vendere il prodotto visto che costa meno e noi andremo a guadagnare però solo una volta 13 euro e 76 centesimi basterà sempre premere su promuovi si darà il nostro link di affiliazione di Digistore24 lo andiamo a copiare ok possiamo andare sempre con Bitly ad accorciare il nostro link di affiliazione di Digistore24 del prodotto una volta che l'hai accorciato lo vai a copiare ritorni su google traduttore vai ad eliminare il link di clickbank e vai a incollare quello di Digistore24 per vendere questo prodotto andiamo a vedere il sito come si presenta si presenterà così anche qua ragazzi molto semplice impara le lingue in soli 10 minuti al giorno molto semplice perché c'è già un video tutorial che parlerà proprio alla persona qui stiamo andando a vendere il prodotto e ci penserà quindi tutto il sito noi dobbiamo solamente andare a copiare ed incollare creare testi trovare le persone e vendere il nostro prodotto online questo qua è l'affiliate marketing e con twitter è veramente semplice perché basterà andare su explorer andare nel motore di ricerca scrivere proprio questa frase qua I want to learn spanish language andrà a trovare i post migliori andrà a trovare gli ultimi post ok 7 minuti fa questo post qua I want to learn italian japanese norveggian russian french spanish un sacco di lingue voglio imparare questa persona qui quindi basterà ritornare su clickbank non c'è solo lo spagnolo c'è anche il cinese c'è il coreano c'è anche l'italiano l'ho visto da qualche parte e andare a promuovere questi prodotti qua stessa cosa vale per digistore 24 impara lo spagnolo parlando impara l'italiano parlando quindi basterà sempre premere su promuovi andiamo a guadagnare 13 euro e 76 centesimi andando a scrivere una breve descrizione andando a mettere il link andando su twitter andare a rispondere a queste persone qua che vogliono proprio imparare la lingua abbiamo la possibilità di vendere a loro il prodotto ebbene ragazzi per il video è tutto avete appena imparato come poter vendere il vostro prodotto proprio alle persone quelle che vanno a cercare loro stesse il prodotto quindi andiamo a semplificare di più il nostro lavoro e come vedete è molto semplice con un copy in colla ok grazie a google traduttore che ci darà una mano a tradurre la nostra lingua in inglese in qualsiasi altra lingua ragazzi ok potete fare tutto questo con tutta la vostra creatività ok e abbiamo la possibilità di guadagnare 50 euro con un click o anche 13 euro e 76 centesimi con un click basterà copiare ed incollare i nostri prodotti all'interno di twitter ebbene ragazzi per il video è tutto mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanellina se volete rimanere aggiornati su queste strategie grazie a tutti